Oggi parliamo di cappotti, giubbotti e giacche. Buongiorno signori, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alessio. Oggi parliamo di giacche, giubbotti o cappotti, perché no, individuando tre macro-categorie nelle quali ognuno di noi deve avere almeno un capo d'abbigliamento. Ovviamente dipende tantissimo da dove vi trovate e dal tipo di temperatura che c'è all'esterno, quindi cercate di capire quello che vi dico e cercate di conciliare il capo d'abbigliamento che andremo a trattare con la temperatura o la zona geografica nella quale vi trovate e anche il contesto, mi raccomando, perché quello è importante. Il primo capo d'abbigliamento di cui voglio parlarvi è il giacchettino leggero, un giubbino che può essere in tela o magari anche in pelle, ma che vi dà la possibilità di essere coperti in una serata non particolarmente fredda. Non fa così tanto freddo da doversi coprire con maglioni e cose di questo genere, però un giubbottino a volte ci può salvare anche da dei piccoli raffreddori. Questo tipo di capo può essere fatto sia di stoffa, in qualsiasi stoffa vogliate, che anche in pelle. Quelli leggeri in pelle sono uno dei capi d'abbigliamento che secondo me ognuno di noi dovrebbe avere nell'armadio. Il colore può essere o nero o marrone o anche perché no grigio, un grigio che magari può tendere al blu, però mi raccomando non esagerate con giubbotti troppo pesanti come se fosse il chiodo dei motociclisti o cose di questo genere. Va portato con un tipo di abbigliamento casual perché se lo mettessi sui... anzi, ne ho uno qui, lo metto, vi faccio vedere l'effetto. Un attimo, eccolo qua. Come vedete l'effetto su un tipo di abbigliamento come quello che ho io adesso non è il massimo, quindi non sta proprio bene, quindi diciamo che lo potete mettere se non avete la giacca. Se non avete la giacca vi faccio vedere. Eccolo qua. Se non avete la giacca questo è l'effetto. Può andare bene anche una serata, potete tirare sulle maniche se siete fuori con gli amici e vedete che già così senza la giacca cambia. Potete metterlo anche con su magari un Apollo, me l'avete visto anche in qualche altro video sotto una maglietta. Questo è un capo che dovete avere sempre pronto nell'armadio, specialmente in primavera o in autunno e perché no, magari anche d'estate se c'è la serata particolarmente fredda. Se siete fuori con gli amici magari lo potete anche mettere in macchina se abitate in una zona nella quale c'è un po' di vento. Ma no, la giacca non me la metto più. Boh, il secondo capo di abbigliamento che dovete considerare di avere è sicuramente una giacca a vento, può essere anche un piumino, una giacca tecnica. La giacca tecnica può essere una giacca che potete utilizzare se andate a sciare o se fate qualche tipo di sport particolare che richiede un minimo di copertura perché siete all'aperto ed inverno quando fa freddo, se non vi muovete molto rischiate di prendervi un accidenti. Ovviamente questi capi di abbigliamento non si sposano perfettamente con un tipo di look casual e elegante, diciamo così, quindi con l'asticella medio alta, diciamo in questa maniera, però sono particolarmente versatili se sotto avete un maglione o un dolce vita o cose di questo genere. Io ne ho uno qui, ve lo posso far vedere indossato. Io non sono particolarmente amante di questi capi, però ecco, questo è l'effetto che fa su una camicia, capite benissimo, che può piacere o non piacere. Io non amo particolarmente questi giubbotti, anche perché i piumini, se siete particolarmente in carne, vi rendono sempre molto rotondi, quindi io tendo sempre a sconsigliarli a meno che non siate proprio longilinei. Bene, arriviamo infine all'ultimo capo, ma per questo mi rigiacco. I piedi, il primo bottone si allaccia. Ok, eccoci qui. Dicevo, arriviamo in questa maniera... Aspetta che controllo... Arriviamo in questa maniera al terzo capo, che è il cappotto. Il cappotto, secondo me, ogni uomo dovrebbe averne uno nell'armadio. Può essere fatto in lana o in altri materiali, magari anche sintetici, ma io tendo a evitare tutto quello che è sintetico. Vado sempre su lana, in questo caso, del cappotto, e possiamo scegliere se averlo nero o grigio, o anche color cammello può andare più che bene. Eviterei assolutamente tutti i colori che sono particolarmente vistosi. Possiamo sceglierlo in mono o doppio petto, però diciamo che ognuno di noi può averlo. Fai sempre bella figura con questo cappotto. L'unica cosa da tenere presente è che con il cappotto, purtroppo, abbiamo la parte frontale aperta. Se è una giornata particolarmente fredda, dobbiamo proteggere anche il nostro petto. Quindi, per fare questo, possiamo avvalerci di una sciarpa. Per quanto riguarda il cappotto, una cosa importante da tenere in considerazione è sicuramente la lunghezza. Ci sono di diverse lunghezze, scegliete la lunghezza che più vi aggrada. Io preferisco quello intermedio, non troppo lungo e neanche troppo corto. Se volete, per farvi fare su misura un bel cappotto, vi lascio magari qua sotto nell'info box qualche link di qualche sito che ve li può fare in base alle misure del vostro corpo, con personalizzazioni, sia la parte interna che magari i polsini, i bottoni, le asole. Veramente c'è un sacco da personalizzare, se lo vogliamo fare su misura. Ovviamente queste tre tipologie di indumenti devono essere contestualizzati nella situazione dove ci troviamo. È chiaro che se andiamo a una festa di compleanno, dove sono tutti vestiti in streetwear, per esempio, molti di voi mi chiedono cosa ne penso, quindi vuol dire che una parte di voi mi segue e ha questo genere di filone, non possiamo andare là vestiti col cappotto e la camicia, ma non è che ci vuole tanto a capirla. Quindi mi auguro per voi che abbiate un minimo di buon senso per riuscire a capire qual è la situazione nella quale vi trovate e il tipo di abbigliamento che avete addosso e riuscire a capire qual è il cappotto, il giubbotto o la giacca giusta per voi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti magari come abbinate voi il vostro abbigliamento, il vostro guardaroba, il vostro giaccone. Raggiungetemi su Instagram, un bel like a questo video che fa sempre bene e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video. Arrivederci, signori. Grazie a tutti.